Ciao Griller, sono Marco di Grillpacco e oggi volevo mostrarvi 10 regali straordinari da fare a un vero Griller. Ciao mogli, mariti e amici di Griller, mi state chiedendo consiglio in tanti su cosa regalare a Natale ad un amante del barbecue ed ecco la soluzione. Regalo numero uno, il mio barbecue preferito, Traeger Ranger, robustissimo, portatile e ha un controllo preciso digitale della temperatura, noi lo impostiamo con un forno di casa e poi fa tutto da solo affumicando le pietanze, ci cuciniamo dal brisket alle pizze, alle focacce, alla frutta, alle bombette, alle salsicce, davvero di tutto, portatile sì ma di una robustezza unica, ha anche una funzione keep warm quindi mantiene caldo le pietanze e alcune volte serve perché magari chiudiamo la cottura in anticipo quindi dobbiamo mantenere calde le pietanze per poi servirle durante la cena. Arriva con una sonda inclusa che dove possiamo misurare oltre la temperatura del barbecue misuriamo anche la temperatura al cuore della carne e soprattutto una piastra in ghisa favolosa, pesantissima, oltre la griglia smaltata con cui arriva di solito. Traeger è un marchio di fama mondiale, famoso soprattutto per i suoi barbecue a pellet e per i suoi pellet. Pellet iCory, Pellet Signature Blend quindi una miscela tra iCory acero e ciliegio, Pellet Melo, Pellet di ciliegio, qui abbiamo un bel iCory che è davvero un qualcosa che col manzo ci sta benissimo, gli lascia una buona affumicatura che ci piacerà poi a tavola. Questo è un regalo pagabile in tre rate senza interessi e senza burocrazia. Regalo numero 2 da Cioven Petromax, uno dei miei amori a prima vista. È il regalo più bello che potete fare nel periodo invernale per ovviamente gli stufati, le zuppe, ma noi ci facciamo di tutto. Ci facciamo dalle torte, alle fritture, alle bolliture. Bene sì, facciamo delle torte e del pane perché le usiamo proprio come forno. Infatti da Cioven, da forno, la utilizziamo con del calore dalla parte inferiore e del calore dalla parte superiore. Mettiamo sotto e sopra le braci ma anche sui fornelli di casa sta benissimo. E c'è un regalo dentro il regalo che è il coperchio. Il coperchio o lo utilizzate come un semplice coperchio, non sarà mai semplice perché c'è un foro per far uscire il vapore, oppure lo utilizzate come padella. Se lo girate ci mettete sulle bistecche e viene una bistecca favolosa. Ovviamente da quella più piccolina che è l'FT 0.5 andiamo all'FT 18. L'FT 18 è la 18 litri che si può utilizzare sia per le grandi cene ma anche soprattutto la utilizziamo come forno. Ed ecco che sarà un forno perfetto perché prenderà il calore sia dalla parte inferiore che dalla parte superiore che anche dai lati e quindi si cuocerà molto bene quello che andremo a mettere all'interno. È la pendola ideale per il camino, per il campeggio, da pendere su un treppiedi, da poggiare su un bracere in giardino, la possiamo mettere dappertutto. Vi arriva con un ricettario della Pedromax e consigli preziosi su come mantenere bene la ghisa per anni e anni e anni. Io vado pazzo per il suo ferro sollevatore che ci permette di essere agili a sollevare il coperchio ma senza guanti quindi abbiamo le mani un po' più libere. Altro prodotto che uso spesso è la cera alimentare per mantenere bene la pendola quindi nessun tipo di olio ma la cera, la sua cera per trattare la pentola ogni volta che la utilizziamo. Una cosa importante però è la pulizia della ghisa per mantenerla per anni e anni e anni dobbiamo pulirla comunque per utilizzarla al meglio noi dobbiamo comunque dargli una pulita come tutte le pentole ma dobbiamo semplificare la pulizia. Ecco che io non abbandonerò mai questi due oggetti uno è il raschietto liscio della Pedromax dove vado a togliere le incrostazioni e l'altro vado a levigare e a pre trattare la pendola con questa spugnetta metallica XL che è bella grande quindi mi prende un po' tutta la pendola. Vi ricordo che su grillpacco.it le trovate proprio tutte dall'AFT 0.5 all'FT 18. Regalo numero 3. Padella Pedromax in ghisa e in ferro puoi scegliere o fare un'accoppiata perfetta e un abbinamento perfetto farà diventare le vostre bistecche dorate farà una reazione di maillard paurosa e diventeranno dorate senza appoggiarci l'oro alimentare sopra ma farà tutto lei. Le misure su grillpacco.it troverete dal FP 15 quindi la piccolina portatile per le salse o pancake all'FP 40 40 centimetri di larghezza dove possiamo fare di tutto addirittura anche la paella. Doppio manico da manico lungo manico corto beccuccio doppio beccuccio che è utilissimo per gli oli bollenti fidatevi quando dobbiamo scolare che non mi cada sulla fiamma ma viene invitato dal beccuccio a scolarlo su altri contenitori. Padella in ferro dall'SP 20 all'SP 32 anche qui quattro misure possiamo scegliere quella più idonea ci servirà sicuramente per uno stile un po più aggressivo del fuoco quindi per fare una bistecca anche in modo diretto istantaneo perché il ferro è molto più istantaneo per uno stile più orientale ma per chissà quante altre cose perché sono quelle cose che a casa utilizzeremo ogni giorno e ve lo dice chi davvero le usa ogni giorno e da pedro max in poi il soffritto non sarà più lo stesso ma due accessori di cui mi ringrazierete a vita per avervi riconsigliati con la vostra chiesa e il vostro ferro sono la spatola e il cucchiaio di legno che non rovinerà il nostro trattamento ci tengo a dirlo chiaramente perché va trattata comunque con del legno con delle spatole non si scioglieranno al calore forte delle nostre padelle e non rovineranno il nostro trattamento io le uso spessissimo regalo numero 4 le nostre salse le migliori salse al mondo abbiamo le salse della blue sog tutta la linea dalla smokey mountain alla tennessee red smokey mountain quel sentore affumicato di noce che ci sta benissimo sulle nostre costine tennessee red una delle mie preferite quando l'assaggiate sembra di stare seduti in un region del sud degli stati uniti è una delle migliori per le laccature la vedete liquida ma dà quel sapore buonissimo pepato e piccante di aceto che sul maiale ci sta davvero molto bene le uniche e indiscutibili salsa italiane degli onyukesmok dei nostri cari amici vincitori del campionato italiano barbecue e soprattutto fondatori di queste due meraviglie salsa barbecue conny bun senape gold digger sono spettacolari chi la assaggiate sa che effettivamente sono un passo avanti una salsa barbecue con della salsa tamarindo comunque molto gustosa molto decisa una senape che non potete non avere in frigo io personalmente c'ho sempre due barattoli perché senza non si può stare davanti a un barbecue la potete mettere dappertutto e tanti di voi ne hanno fatto davvero le scorte in quest'anno american stockyard grandi salse americane dalla smoky sweet una salsa barbecue affumicata smoky mustard quindi una senape affumicata che con il pesce ci sta benissimo l'ho fatta con l'orata davvero sembrava una cosa sola red raspberry con i lamponi affumicati e la manvi style che riprende molto lo stile di manvis del barbecue di manvis salsa voodoo mango con il 27,3 per cento di mango piccante e cattiva decisa ma con la dolcezza del mango sembra subito dolce poi arriva il piccante davvero una salsa piccante che dovete avere nella vostra dispensa su grillpacco.it trovate tutta la selezione di salse che ho fatto io e ho assaggiato per voi regalo numero 5 i nostri rub quanti bei ricordi ma gli vogliamo dare un po di gusto a questo barbecue gli vogliamo dare un gusto si deciso ma anche delicato e abbiamo i nostri rub diverse selezioni new entry angus and doing dal garlic butter che è un burro aromatizzato all'aglio buonissimo lo metto davvero dappertutto rub teriyaki giapponese orientale da quel sendore umami che spesso sul pollo ci vuole bacon blast capolavoro di mocho in collaborazione con langus and doing io conosco qualcuno che lo mette anche sulle patatine poi mi avete sempre sentito parlare di cycle buster uno dei migliori marchi al mondo di condimenti per barbecue ne fa davvero di ogni tipo qui abbiamo dal pollo piccante al maiale uno dei migliori rub per il maiale log waller poi spg e lemon pepper garlic che non mancheranno mai in una dispensa perché appunto aggiungono del sale del pepe dell'aglio e anche del limone per il lemon pepper garlic e i nostri tre rub piccolini di cui non possiamo farne a meno perché abbiamo una miscela competition bbq molto molto buona abbiamo lucimama che è molto piccante e l'honey bbq rub pollo maiale ma davvero fa la differenza perché gli da un dolce e gli da una crosta particolare alle nostre carni che sono indimenticabili sono quei rub che non perdono gusto nelle lunghe cotture e rimangono intatti ci fanno una crosta buonissima un bark buonissimo e rimangono intatti dando lo stesso gusto sia prima della cottura che dopo altra linea importante di cui mi avete visto usarne tantissimo è la fire smoke questo rub davvero molto buono sweet pepper assaggiatelo assaggiatelo già dal colore dalla grana è uno dei pochi rub mediterranei ma americani la fire smoke fa rub americani sì ma che sono sembrano molto più simili ai nostri gusti italiani la collezione completa la trovate su gilpacco.it regalo numero 6 le cure dell'angus and oing qui abbiamo la cura per il salmone o la trota e qui è come giocare al piccolo chimico del griller prendo un pezzo di salmone prendo una trota prendo un bacon leggo le istruzioni e via con la fumigatura semplicissimo ma voi che lo regalate sarete ricompensati con una porzione di salmone o di tonno affumicato mai visto prima in questo mix di spezie troviamo l'arancia che con salmone lega molto bene l'aneto e la barbabietola che gli dà quella tonalità di colore violaceo rosa che personalizza il vostro salmone oltre a questa cura trovate su gilpacco.it anche la cura del bacon old italian style dai gusti un po più mediterranei per il vostro bacon il vostro maiale o le vostre carne affumicate e potete divertirvi come volete. Regalo numero 7 la butcher paper della Suckle Buster è la migliore carta del macellaio che potremmo utilizzare a casa si chiama carta del macellaio perché in america ce l'hanno un po tutti i macellai ma noi in italia non la troveremo mai nelle macellerie. La Suckle Buster si è affidata a Loren una delle migliori fabbriche internazionali di consumabili per produrle la migliore butcher paper. Io la utilizzo sempre misura dai 69,7 centimetri ai 45,7 centimetri ci fate un sacco di cotture e serve per mantenere la nostra carne il nostro pezzo di carne con la crosta intatta ma allo stesso tempo non lessarla quindi manteniamo la crosta intatta non secchiamo la carne e per gli addetti ai lavori ci fa superare gli stalli quando abbiamo un bullet fermo con la temperatura quando abbiamo un arrosto che non si muove da lì allora con la butcher paper noi gli diamo qualche grado in più gli facciamo superare il suo stallo tutto questo conservando il bark che noi vogliamo senza creare quella pappetta di rub e rovinare al nostro bark e poi è ottima per incartare i regali. Regalo numero 8 i grempiuli petromax uno dei più bei grempiuli in commercio, grempiule petromax ma l'avrete già visto qualche volta uno dei trucchi dei grempiuli che utilizzo e che fanno sparire la pancia altro grempiule che negli ultimi anni hanno indossato un po in tutta italia grempiule della 511 anche qui fa sparire la pancia ma la cosa più bella è l'apribottiglia e ovviamente possiamo inserire le patch quelle che vogliamo io ho scelto le più belle ma potete cambiarle quando volete due grempiuli favolosi due top di gamma soprattutto oltre essere belli grempiuli devono essere comodi e li trovate su grillpacco.it regalo numero 9 tanti prodotti in arrivo online ma già in stock tanti prodotti petromax uno più bello dell'altro dagli utensili in legno e acciaio il cappello di lana ragazzi il cappello di lana per gli inverni più gelidi la custodia di pelle per le posate da portare fuori libro di outdoor cooking della petromax rialzi per le tachioven e sottobendole accendi fuoco della petromax abbiamo le patch nuove fiammiferi che mi vado molto orgoglioso una delle cose mai viste in italia è questa gabbia petromax per il pollo dove noi mettiamo all'interno il pollo e appendiamo al nostro treppiedi in sospensione il nostro pollo si cucinerà appeso e manterrà i suoi succhi perché si cucina con molta calma uno dei tanti regali che mi sono fatto anch'io è la mug la tazza della petromax nera e anche bianca da portare dappertutto io ci faccio un po di tutto oltre che sono arrivate borse di tutti i tipi borse per il treppiede borse per i breceri borse per le padelle in modo che non maltrattiamo le nostre cose ma a proposito di treppiedi oltre ad avere il treppiedi con i suoi accessori la griglia il frytop sono arrivati i tre tipi di braceri piccolo medio e grande con una delle cose più rivoluzionari che non avete mai visto semplicissima ma ci evita un grande mal di schiena gli estensori per i breceri dove io do il doppio dell'altezza se non il triplo il mio bracere e non lavoro più a 20 30 centimetri ma lavoro con l'altezza che voglio così la schiena ringrazierà una delle cose che non dimenticherete facilmente fiero di presentarvi una delle cose che ho già aperto già amato ed è la mannaia della petromax già si sente che bilanciata benissimo manico e legno il resto fatto veramente bene già si sente che va verso il taglio e taglia vero molto bene adesso la riproveremo con chissà quante mille cose ogni accessorio che avete visto è già in stock ma sta arrivando online su grillpacco.it regalo numero 10 sono i due regali che mi son fatto da solo a natale ve li faccio vedere il primo è un frytop petromax che posso utilizzare nel fornello a gas petromax e anche sul carbone io lo voglio utilizzare sul carbone ecco il frytop che utilizzerò sul fornello a gas o perché no sul piano per daccioven a carbone farò questo esperimento ma lo vedo davvero molto robusto e poi babbo natale viaggiava pesante me lo son fatto spedire direttamente a casa una cosa che volevo da tanto tanto tempo una comodità estrema arrivo eh piano per daccioven da 90 cm della petromax me lo porterò a spasso per tutte le grigliate in italia poggerò la ciminiera la daccioven il fornello lo utilizzerò proprio con un vero e proprio tavolo da combattimento lo volevo da tanto tanto tempo e babbo natale questa volta ha viaggiato un po pesante lo sto provando per voi e se il video vi piace cliccate sulla campanella iscrivetevi al canale iscrivetevi anche al gruppo facebook di grillpacco il gruppo battaglione griller di backpacco dove potrete postare le ricette e chiedere qualsiasi consiglio sulle vostre preparazioni inoltre su grillpacco.it oltre il barbecue gli accessori e gli utensili che vi serviranno abbiamo una selezione di rub e salse che io ho selezionato per voi lo assaggiate tutte perché quando il gioco si fa caldo i griller iniziano a grigliare i grigliare i grigliare Grazie.